Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi raga siamo qua che vi voglio mostrare gli aggiornamenti di Euro 2020 Preview Raga la domanda sorge spontanea, ha senso fare degli aggiornamenti per una competizione che neanche esiste perché quest'anno neanche la fanno Cioè che aggiornamenti possono uscire, cioè neanche fanno l'edizione e escono gli aggiornamenti E qua sicuramente entra in gioco il dio denaro perché sicuramente le erano già state stampate e sicuramente dovremmo venderle in qualche modo Raga dopo avervi fatto vedere gli aggiornamenti dobbiamo spacchettare questi 6 pacchetti dell'Adrenalin XL spagnole Sperate raga di trovare le ruchi di cubo e ansufati che le sto cercando come un dannato veramente Prima di cominciare col video vi chiedo di lasciare un bel like e supporto e iscrivervi qui a sotto se ancora non l'avete fatto Dai dai raga iscriviti, cosa vi costa? Raga quando vi siete iscritti poi lasciate il hashtag salute e mi pare di essere salutati nel prossimo video o quello dopo ancora Raga condividete anche il video magari Ok raga andiamo a spacchettare gli aggiornamenti raga di Euro 2020 Preview che ve li mostro subito Se vi state chiedendo dove si trovano questi aggiornamenti raga si possono trovare solo in Spagna Nella rivista raga Hugon che è l'equivalente del nostro bomber è solo edizione spagnola E da loro lo chiamano Hugon e sono già al numero 160 In allegato raga oltre agli aggiornamenti c'era l'album spagnolo come si può vedere dalla bandierina Oltre a questo si potrebbero anche trovare due bustine di Euro 2020 Preview Con un giocatore della Svezia sembra e uno della Francia che dovrebbe essere Matuidi Raga gli aggiornamenti ovviamente essendo spagnoli sono della nazionale spagnola Abbiamo Isco, Ferran Torres, Paco Alcacer, Inaki Williams, Iago Aspas e Dani Olmo Poi raga abbiamo anche Diego Llorente, Unai Nunez, José Luis Gaia Sì giusto ho detto così Dani Pareo, Marco Lino Asensio e Suso, l'ex Milan che ora gioca a Siviglia che è anche stato riscattato raga Perché raga con la qualificazione alla Champions League avevano l'obbligo di riscattarlo dal Milan direttamente Ok raga gli aggiornamenti sono questi Comunque se volete cercarli su ebay si trovano tranquillamente Io sono riuscito a prenderne anche un altro di questi aggiornamenti qua che però lo prefisco tenere sigillato perché non si sa mai Ok ora raga passiamo direttamente allo spacchettamento di queste piccole meraviglie Primo pacchetto raga Raga anche se troviamo la Golden Boyer ammetto che non mi fa schifo eh Non mi fa proprio schifo quindi vorrei trovarla Vediamo chi troviamo Abbiamo Martínez Mata che è l'unonimo di quello che giocava il Manchester United e ora gioca non mi ricordo più dove Victor Sanchez Juan Villar Poi abbiamo la rara che è una Poi abbiamo Didac e la rara eh Uh tridente con Marco Sirente Herrera e Vitolo Con 82 85 69 Pacchettino successivo raga Vediamo chi ci riusciamo a trovare mo Uh bellissima questa la carta idolo di Ames Rodriguez Bellissima veramente questa Poi abbiamo un altro tridente raga Una lettera Lodi Aduriz Guidetti E Morales Pacchetto dopo raga Vediamo chi troviamo Vediamo chi troviamo Allora abbiamo Papi Shake Penso si dica così Si dica così Dani Martin Dembele del Barcellona molto bella Ruben Perez Abbiamo il portiere Poi abbiamo Uh Vinicius Junior E poi abbiamo il portiere Atletico di Bilbao Che è Unai Simon Carta diamante Però raga Vinicius Junior Bellissima questa Questa mi fece Cioè era proprio una di cui volevo Questa è qua voglio raga Andiamo col pacchettino dopo raga Vediamo chi troviamo Siamo a metà spacchettamento perché erano sei pacchetti Abbina Anche Angel Darder Kike Garcia Ontiveros Abbiamo una letterina Abbiamo Uh Dobles Iron Man Con Cochlein E con Dobbia Ragazzi sentite la pronuncia Cochlein 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 E raga la rara è Canales Plan A Quindi niente troppo particolare Pensavo peggio eh Pensavo ho creato un po' di suspense raga Però Mi sa che niente Raga questa è difficile da aprire 15 dentro una rara Raga 15 dentro una rara Me la sento che è abbastanza rara Questa c'è dentro Abbiamo Vas Moyano Ruben Pegna Budmir raga L'attaccante Ex Crotone Abbiamo un codicino Un difensore raga che è Torres Diamante E la rara raga è Uh Diego Lovets Guante d'oro Raga Guante d'oro Questo qua è il nostro portiere d'oro Fantasso Cioè guanti d'oro Scusate Guanti d'oro Comunque veramente Veramente ottima Anche questa card Ultimo pacchetto raga Per poi passare direttamente Ai saluti Raga comunque non mi fanno schifo I 5 ballon d'oro E una card invincibile Cioè se trovassi uno di questi Raga Sarai contento uguale Abbiamo Cari Cariglio Scusate Pau Torres Lunin Jesus Navas Poi abbiamo il centrocampista Che è Cocurella Diamante Versione Diamante Molto bella E poi Giannuzai Ex Borussia Dortmund E Manchester United Non bellissima Però ci sta Raga detto questo Io passerei direttamente Ai saluti Allora raga Con gli aggiornamenti spagnoi Ero 2020 per più Ragazzi I collezionisti come me Sono da avere Cioè non ce ne sono Aggiornamenti vanno avuti Voglio salutare Diego Leva Matteo Alessio Calva Lucas Enrico Daniele Ninja FabiPlayer-06 GigiDefHome PolloAndrei Tommaso DeGironimo Pietro Zanaga CristianCT Calamaro Channel Hermoso477 IssamGamer04 TheGambleGaming E Nicola Riso Raga Vi ricordo di lasciare il like Iscrivetevi al canale Fate iscrivetevi tutti i vostri amici E condividete E attivate la campanellina Raga Al prossimo video